Nuovo aggiornamento con Moversi in Toscana, buon viaggio Mauro Ciutini in studio, personale su strada sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Gello e quello di Cascina in direzione di Pisa mentre in direzione Livorno ci sono anche qui lavori tra il centro intermodale est e quello ovest. Altri lavori vengono segnalati sulla A1 a Firenze Nord e problemi anche all'area di servizio Lucignano in direzione di Firenze. Un veicolo in avaria sul raccordo Siena-Firenze, siamo prima dello svincolo di San Casciano Sud in direzione di Firenze in Pruneta. Ricordo che sulla Firenze-Pisa-Livorno anche stanotte per il transito di un trasporto eccezionale dall'interporto est a Livorno Centro saranno chiusi gli svincoli. È tutto per il momento, Moversi in Toscana con Regione Toscana Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Buon viaggio.